Parliamo ora di studenti perché si sono svolte le prove di accesso per le scuole di specializzazione in medicina. Quelle per gli Atenei della nostra regione hanno avuto luogo a Padova come per tutto il Triveneto, 66 posti a Udine e 79 in crescita a Trieste. Anna Vitaliani ha intervistato Roberto Di Lenarda, direttore del Dipartimento di Scienze Mediche dell'Università di Trieste. È un ottimo segno perché è figlio del rinnovato affidamento a Trieste di 5 scuole di specialità negli ultimi due anni e oltre questo le singole scuole hanno avuto più contratti. È molto importante perché così i nostri laureati possono avere più sbocchi e possiamo formare personale, come facciamo da molti anni, di alto livello e in numerosità adeguate alle esigenze del sistema sanitario regionale. È più appetibile perché sicuramente la città è molto bella ma soprattutto le dimensioni sono le dimensioni ideali perché noi abbiamo un potenziale formativo ottimo e abbiamo delle numerosità compatibili con le nostre potenzialità formative. Per cui chi si specializza all'Università di Trieste ha la certezza di uscire con una preparazione di ottimo se non eccellente livello.